Quando esci con i tuoi amici e trovi un posto dove fare esercizio fisico succede questo Guarda come vedendolo, guarda Tu che stai facendo figli? Guarda ragazzi, eccoci qua, stai facendo spicchandà Guarda, guarda Andrea Tuo suo allenamento costante Ma non serveva russo per le braccia, ma vengo qua tutti i giorni Ma sei scemo? Ma veniamo qua Sei scemo, a me basta fare questo movimento Andiamo a correre Vai, fai ripetizioni Ma come faccio con te sopra? Vai, fallo Fallo, fallo, vai C'è più qualcosa? Vai, ripetizioni a uno Non ho capito, non riesco a muovere più Vai, fanno lo set Vai, ripetizione uno Vero Vai Come va la cicletta? Vai, è una meraviglia Sei pronta per quest'estate? Mamma mia, sono prontissima Sina, tu che stai combinando? Sulla? Sì, mamma Sì, mamma